Ti sei perso l'azione? È stato orribile! Cos'è successo? I predoni sono tornati. Gli è piaciuto il droide che hai trovato. Zeta. L'hanno presa, Kal. L'hanno trascinata fuori. Zeta è stata rapita. Meglio che il mio saloon sia a posto, Targol. Secondo me tu sei la causa di tutto. Sono innocente, signor Gris. Lo giuro! Li ha mandati Dagan. Sta cercando Tannalor. Zeta deve essere più di quel che pensavamo. Ci sarà qualcosa nei suoi banchi di memoria. Dobbiamo salvarla. Quando otterrà ciò che cerca, la rottamerà. Non sarà affatto facile. La base dei predoni è nella palude. Hanno svuotato una vecchia Lucre Hulk delle guerre dei Cloni. L'abbiamo vista. Hanno una gran potenza di fuoco. Anche noi. Ha ragione. È il momento di agire. Ora sì che si ragiona. Hanno ciò che cercavano. E ora sono tornati al sicuro compiaciuti. Non se lo aspettano. È probabile. Ma se hai torto, verranno a cercare vendetta. Non preoccuparti. Baderò io a Gris e agli altri. Sicura? Voi potete cavarvela. Ma non farlo nuotare senza supervisione. Cercami se serve. Bella ascia. Sono Mosi. Merrin. Bene. Esploro l'area. Ci vediamo lì. Quasoni. Eduellone. Quasoni. Puoi. Puoi. ね. No, no, no. No, no, no. Andiamo, amico. No, no, no. 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 Inutile resistere. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie per il passaggio. No, 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 no. Bene, eccolo. Ti vedo, arrivo. Ce l'hai fatta? Ti hanno visto? Eh? Non esiste. Che cosa abbiamo? Qualche traccia del droide? Una specie di gru di servizio. Potremmo entrare da lì? È la nostra opzione migliore. Per arrivare alla Lucreolk bisogna attraversare la palude. Parla per te. Vuoi un passaggio, BD? Quando sei pronto, va al punteggio. Ti copro io. Ricevuto. Così non si sporca gli stivali, eh? Ora dobbiamo solo soccorrere Zeta. È difficile immaginare che qualcuno possa vivere in questa palude. Ma il nostro amico dimostra che si può. Vedi quell'edificio, amico? Qui deve viverci qualcuno. O ci viveva. Non ti lascerò. Meglio dare un'occhiata. Me la caverò. Ma dobbiamo trovare il mio datapad. Non possiamo trovarne un altro? Assolutamente no! C'è tutta la mia vita su quel datapad. Kal, cosa ci fai qui? Potrei chiederti la stessa cosa, Zig. Sono venuta qui in cerca di Zeta. Sì, anch'io. E io sono Winnie Ares. Kal, giusto? So che ci siamo appena conosciuti, ma avrei bisogno di aiuto. Di che hai bisogno? Mi è stato detto che c'è un volatile nella palude con uno splendido piumaggio. Ma quando ho cercato di ammirarne uno da vicino, mi ha preso il datapad ed è volato via! Dove è andato? C'è un nido in cima a un pinnacolo qui vicino. Ci andrei, ma Winnie vuole che stia al suo fianco. Sì, quel pinnacolo lì! È così vicino, eppure così lontano. Vedrò che posso fare. Brilli come le stelle. È un detto di Coruscant. Forse è meglio un semplice grazie, Kal. Per favore, quel datapad contiene tutte le mie creazioni. Per non parlare della mia banca dati di riferimento. Senza, dovrei ricominciare dal fondo, più in fondo di quanto non sia ora. Ti auguro di trovare quel datapad, Kal. E attento, quei volatili arrivano molto in alto. Beh, è stato gentile da parte sua. E così sei di Coruscant, eh? Proprio così. E tu? De qui? Questa? Pallucco? No, di Kobo. Affascinante! Sei del posto! Devi assolutamente parlarmene. Andiamo, B-D-1. Oh? Ah sì? Vediamo. Non posso muoverlo. Ma non c'è altro modo di salire sulla colonna. Mi sta trascinando sotto. Sei sempre dove guardare. Bel lavoro. Oh! 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 Non devo fermarmi! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una volta mi sono intrufolato su un mercantile su Denab Ah sì? Qualche consiglio? No, niente a che vedere con una luce orca Facevo meglio a starmene zi Puoi pensarci tu? Ma certo! Oh no! Oh no! I nemici vicino a noi Sono pronto I jetpack sono sopravvalutati, eh? Non possono fermarci! Quei droidi stavano litigando? Capita più spesso di quanto credi Ecco perché hanno perso Su, andiamocene Controllo che più avanti sia libero Mi manco, BD? Oh no! Perchè! No! Non! 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 Sì. Sarebbe stato troppo facile. Conviene sempre provare. Attenzione. Se vedi arrivare qualcuno, uccidilo. Abbiamo visite. Non di cortesia. Non perdiamo tempo. Guarda qua. Andiamo a spettacolo. Erano dalla parte sbagliata. Tu continua a salire, ok? In questo modo. Ecco. Non ho mai dubitato di te. Va avanti. Io guardo in giro e controllo che non ci siano sorprese. Fa attenzione. Antenete le distanze. E' un'altra parte sbagliata. E' un jedi. E' la terra. Posso farcela. Non. Un'altra parte sbagliata. Non. Sì. Sto scalando una vecchia nave da guerra, come ai vecchi tempi. Dove stanno andando? Sì. Sì. Potrebbero occupare un intero pianeta. Fate allerta. Ci sono degli ostili nell'area. Siamo sotto attacco? Pronto alla battaglia? Non deve passare nessuno. Non so cosa abbia in mente Ravis, ma ha tirato ospiti sgraniti. In passato... È stato crudele con quel beat. Io ripiego! Ora tutta la nave sa che siamo qui, eh? Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei una perdita di tempo. Una porta inceppata. Chissà. Ci sono addosso. Cadrai. Primo. Per fortuna sei ancora in tiro. Sarei contento che Meryn si è unita a noi. Sì, mi fa piacere che voglia aiutarci con Tannalor. Aspetta, hai sentito? Droidi distruttori. Perfetto. Ascolti. Cominca, Giulia. Forza! Mi sa che era l'ultimo. La prima volta che ho affrontato un droide che ero con il mio maestro durante le guerre dei cloni. Mi sono bloccato. È dovuto intervenire lui. Guardati ora. Sarebbe orgoglioso. Lo spero. Piano. Nemici né paraccia. La nata è innescata. Stoppa, Raff. Sta bene, Vigil? Beccati questo. Lo sai che non l'ha fatto solo per Tannalor, vero? Non so di cosa stai parlando. Mettila come vuoi, Cal. Bene, vediamo cosa abbiamo qui. Un turboascensore. Dentro c'è chi penso che ci sia. Diamo un'occhiata più da vicino. Sì, è Z. Dove conduce? Alla torre di Contrombo. Allora è la nostra meta. C'è un problema. Là sotto. Droidi. Abbiamo visto di peggio. Guarda quegli AAT. Ho un piano. Ehi, Cal. Senti qua. Io faccio del rumore e li distraggo per farti passare. Poi ci ritroviamo al turboascensore. Che ne dici? È rischioso. Ormai siamo ben oltre il rischioso. Buona fortuna. Anche a te. La nave non volerà, ma c'è un hangar pieno di unità. Un esercito. Tutto per noi. Pronto a setacciare l'intero pianeta per trovare il mio padrone. Al momento giusto ti darò un segnale. Che segnale? Vedati. Lo capirai da solo. Che c'è? No, non è lo... Nessuna traccia di loro. Che razza di domande sono? Se li preghi, uccidili e basta, idiota. Preceduto? Passo e chiudo. 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 Non male come entrata in scena. Passo e chiudo. 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 Non si ha a frega. Chiari i trucchetti! Non si ha a frega. Vediamo se funziona. Droide, uccidili! Roger, Roger! Finalmente! Hai mostrato le tue carri, Jedi! Ah, guarirà! Vedo che qui hai sistemato tutto. Felice di vederti. Anch'io. A chi serve un martello così grosso? Non devi più preoccupartene. Non ho trovato una via per il turboascensore. Beh, cerchiamone una insieme. Ottimo lavoro, BD. Sì. 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 Ehi, guarda qua. Puoi interfacciarti? Ho un'idea. Ok. E ora? Fatto! Niente male. Cosa sono queste strutture? Il termine tecnico è Yurta. Sono alloggi. Le ho viste su Marek 9. Ma non erano così tante. Alloggi non è un buon segno. Nonéré inoltre. Non è un buon segno. Non è un buon segno. Contatto! Era ora. Assaggia questo! Non muovere qui! Il codice è ardimento, potere, libertà. Marche, porta tutti insieme. Uccidetelo. O noi o loro. Allora, basta. Arca la larga da lui. Non mollerò. Libertà. Contra-attacca. Hai sbagliato strada? O invece? Va bene. Puoi mandarmela giù? Detto fatto. Non c'è tempo da perdere, Cal. Non c'è tempo. Non c'è tempo! Non c'è tempo! In avanti! Spirare il battaglione! Allora! Il bambino è rispondiato! Integui, fellow! Sono un bambino che è il bambino! Grazie a tutti. Non mi piego. Beh, non è stato facile. Non penso che gli stiamo simpatici.